Sono Giorgio Boscolo, sono il presidente del gruppo e ho avuto la fortuna di avere un padre molto speciale. A 18 anni praticamente mi ha detto che devi andare all'estero, devi iniziare a scoprire un po' il mondo, devi imparare le lingue e soprattutto devi imparare il senso di quello che è il servizio e quello che è il senso del rispetto del cliente. Il viaggio per me significa scoperta, significa capire varie culture, capire angoli di pensiero completamente diversi, scoprire paesaggi diversi, scoprire colori diversi. Il gruppo Boscolo ormai ha festeggiato i suoi 30 anni. Quello che noi abbiamo cercato di fare è di mettere il cliente al centro delle nostre attenzioni. Nessuno dei nostri viaggi viene messo in vendita prima di non essere provato da noi personalmente, verificando gli alberghi, i ristoranti, guide, trasporti, tutto è veramente curato nei minimi dettagli. Sono prodotti di due tipi principalmente, un prodotto più guidato, con un accompagnatore che ti segue durante tutto il viaggio, per quei clienti che amano viaggiare insieme con altri passeggeri. Poi invece abbiamo un'altra gamma di prodotti, quelli che noi chiamiamo i pacchetti individuali, dove diamo la possibilità ai clienti di poter costruire il loro viaggio direttamente secondo le loro proprie esigenze. Sono dei professionisti che conoscono la destinazione in un modo perfetto, e quindi ti daranno anche la possibilità di entrare anche in contatto con la gente locale. Quindi la possibilità di poter scoprire tutti i piccoli dettagli della destinazione, e sono dei perfetti, perfetti compagni di viaggio. Di solito con questi accompagnatori si costruisce una relazione così buona durante il viaggio, che poi continua anche nel periodo successivo dopo il viaggio. Ci rivolgiamo a chi non ama le scelte omologate, ci rivolgiamo a chi ama farsi sorprendere dai nostri viaggi. Il cliente di Boscolo è un cliente curioso, è un cliente che da un viaggio si aspetta ritornare arricchito, si aspetta di entrare in contatto con le culture locali. Più di 3 milioni di persone hanno viaggiato con noi. Abbiamo tantissimi clienti che ritornano, più del 50% dei nostri clienti sono clienti fedeli. Questa è una cosa che è unica nel nostro mercato. E dobbiamo dire che siamo molto orgogliosi per aver fornito dei servizi veramente che hanno costruito la reputazione della Boscolo negli anni.